Ci troviamo in Fondazione Achille Castiglioni, Piazza Castello 27 Milano e la fortuna è di poter presentare un allestimento dei fratelli Castiglioni nel 1965 che era stato presentato a Palazzo Strozzi a Firenze. In Castiglioni avevano studiato una sala da pranzo e il metodo di Castiglioni era proprio quello di presentare dei progetti di industrial design in queste occasioni di allestimento. La mostra è curata da Beppe Finessi, il progetto grafico Italo Lupi e Marco Marzini ha creato letteralmente una stanza all'interno dello spazio della fondazione proprio per presentare tutti gli oggetti originali di questo progetto, a partire dai bicchieri, le posate, c'è un mobile con le ruote che si sposta e in questa sala da pranzo c'era appunto la possibilità di vedere degli oggetti sia progettati da loro che poi andranno in produzione o altri progetti anonimi. Siamo già negli anni 60 e i Castiglioni presentano un oggetto abbastanza straordinario per quel periodo storico, quindi prendono una luce spot con una ventosa che può essere applicato dove si vuole. In questo caso l'originale era messo sul Johnny Walker che non è stato progettato dai Castiglioni ma i Castiglioni presentano una lampada che può essere appunto appoggiata e posizionata dove si vuole. È chiaro che questo fa parte proprio di questo metodo dei Castiglioni che li vedeva proprio molto curiosi verso le nuove tecnologie, materiali eccetera, quindi già negli anni 60 a presentare una lampada del genere era abbastanza particolare e poi provare a vedere se era possibile metterla in produzione. Nel 1965, sempre per questa mostra a Firenze, i Castiglioni presentano un progetto di orologio a parete. L'orologio a parete è studiato in modo anche lui molto lineare, molto semplice, il materiale d'archivio che abbiamo in fondazione lo racconta in tutto il suo sviluppo. Ecco, il numero 4 di questo orologio che poi andrà in produzione anni dopo è un numero particolare rispetto al classico numero romano. Si sarebbe confuso con il numero 6 e quindi diventano 4 stanghette.